Da mesi perseguitava l'ex fidanzata con appostamenti, pedinamenti, minacce. La squadra volanti della Polizia di Stato di Lecco ha arrestato per stalking un 42enne di Traona. A contattare gli agenti della questura è stata la stessa vittima, quando ieri, venerdì, ha notato dalla finestra della casa dove lavora, in via Palestro, a Lecco, l'ex compagno che la attendeva. Sei mesi fa la donna aveva deciso di lasciarlo, dopo una relazione durata sei anni, perché non andava d'accordo con le figlie e in un'occasione era stata anche aggredita fisicamente. Ma lui non si era mai rassegnato alla fine della loro storia. L'uomo aveva già ricevuto un provvedimento di ammonimento da parte della questura di Sondrio lo scorso febbraio, dopo una prima serie di atti persecutori. Ma dopo un breve periodo di tranquillità, secondo quanto raccontato ai poliziotti dalla donna, il 42enne era tornato assiduamente alla carica, andando in tutti i luoghi che la vittima frequentava, oltre che sotto casa, allo scopo di convincerla a tornare insieme e riallacciare il loro rapporto sentimentale. La stessa mattina dell'arresto, l'uomo si era fatto trovare in stazione a Morbegno, dove l'ex compagna prende il treno, minacciandola, dopodiché lo aveva nuovamente intravisto alla stazione di Lecco al suo arrivo. Alla luce delle dichiarazioni della vittima e dell'ammonimento in atto, il traonese è stato accompagnato presso gli uffici della questura di Lecco e tratto in arresto. Stamani l'udienza di convalida, con la disposizione nei confronti del Reo, in attesa di giudizio, della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa.